Ciao ragazzi da Vittorio, sabato c'è Lazio-Inter, una partita molto importante per la Lazio perché fare punti contro quella che è la favorita numero uno per lo scudetto sarebbe importante. Partita importante anche per il ritorno di Simone Zaghi a Roma per la prima volta d'avversario. Ho fatto il video oggi pomeriggio dove dico quello che farò io, andatelo a vedere e ditemi che cosa farete voi. Quindi partita importante che la Lazio rischia di affrontarla con una situazione di emergenza. Francesco Acerbi non ci sarà, è squalificato per due giornate e quindi già dietro Sarri dovrà fare a meno di uno dei titolari. Potrebbe giocare Patrick che è entrato nel secondo tempo di Bologna-Lazio. Radu sembra un po' indietro e finora ha giocato zero minuti. Io pensavo che Radu fosse la riserva ideale di Acerbi, piede sinistro per cui perfetto per giocare al posto di Acerbi, ma in realtà durante anche la scorsa settimana Maurizio Sarri ha provato sempre a coppia Patrick-Louis Felipe. Mercoledì ci sarà una sessione speciale per la fase difensiva della Lazio, un allenamento aggiuntivo dove sono invitati solamente i difensori e i centrocampisti per studiare e migliorare la fase difensiva. Sicuramente mercoledì avremo più notizie su chi giocherà in difesa. Intanto sapete che c'è anche il dubbio davanti perché Ciro Immobile è uscito, non sta bene e potrebbe giocare Murici contro l'Inter. La buona notizia di oggi è che però Ciro Immobile ha svolto stamattina accertamenti alla Padella e la situazione è molto migliore. La situazione è positiva, Ciro Immobile potrebbe giocare sabato prossimo contro l'Inter. Sicuramente non sarà al 100% però Ciro Immobile dovrebbe essere arruolato e quindi sarà una scelta tecnica, ovvero Maurizio Sarri dovrà scegliere chi far giocare contro l'Inter. La Lazio in teoria ha tre opzioni, Ciro Immobile, Vedat Murici o Pedrito Pedro come falso 9. Qual è la scelta che preferisco? Beh, Vedat Murici è sicuramente più integro di Ciro Immobile, non ha finora fatto bene contro Bologna, Lazio è andata in grande sofferenza. Non credo che sia stata colpa di Murici che la Lazio non abbia fatto tanto contro Bologna, in generale la squadra non ha girato, Murici ha fatto ben poco, ma poteva fare ben poco in una situazione del genere. L'Inter è una delle migliori difese della Serie A e quindi Murici rischia di veramente avere poche chance. In più, come ho sempre detto, Murici è forte fisicamente, può brillare nel gioco aereo. Bene, nell'Inter la difesa 3 è formata da veramente giocatori fisicamente importanti. C'è De Vrij, c'è Skriniar, c'è Bastoni, tutte e tre piuttosto ben messi fisicamente, in più Skriniar e De Vrij molto forti dal punto di vista del gioco aereo. E quindi potrebbero bloccare e chiudere Murici nella sua caratteristica principale, ovvero il gioco aereo. Per questo, secondo me, la scelta Murici non sarebbe la più giusta, non solo perché Immobile è più forte, ma anche perché, dal punto di vista tecnico, l'Inter è probabilmente la difesa che più riesce a neutralizzare le caratteristiche di Murici. Per questo, nonostante, credo che segnare contro l'Inter per Murici potrebbe cambiare la stagione, se Ciro Immobile è in grado di giocare, secondo me deve partire Ciro Immobile, perché, appunto, le caratteristiche di Ciro Immobile sono perfette per mettere in difficoltà la difesa dell'Inter, che è molto forte fisicamente, molto forte nel gioco aereo, però in velocità, lo conosciamo bene De Vrij, non è proprio brillantissimo, non è sicuramente la sua caratteristica migliore. Quindi, se Ciro Immobile sta bene, io direi che deve partire titolare. Magari non fare tutti i 90 minuti perché rientrare dopo un infortunio non è facile, però, secondo me, Ciro Immobile può essere a scelta vincente, anche se non al 100%. L'altra opzione potrebbe essere Pedro. Pedro potrebbe essere un'altra soluzione interessante, perché il falso 9 non dà punti di riferimento ai difensori e De Vrij e Skriniar amano avere un centramente a cui attaccarsi, anche dal punto di vista fisico, mentre Pedro, svariando, mi auguro, da sinistra a destra, può creare dei buchi, perché se De Vrij e Skriniar lo seguono, ci può essere spazio per gli inserimenti e in quel caso Minico e Savic potrebbe essere determinante e letale, grazie allo spazio aperto da Pedro. Queste, secondo me, sono le soluzioni migliori. Pedro può essere una soluzione interessante, perché è intelligente, perché conosce il calcio di Sarri e perché non dà punti di riferimento, però direi che Ciro Immobile, anche non al 100%, per questa partita è una soluzione ideale. Io ripeto, diamo tempo a Murici, stanno arrivando delle voci su Murici terribili, nel senso che ancora una volta è arrivata una voce che Murici sta parlando con i dirigenti del Galatasaray per tornare in Turchia. Voci, secondo me, assolutamente infondate. Anche perché la Lazio, dei rientrati di 19 milioni di euro in Turchia, tutti questi soldi non ce l'hanno, soprattutto non li spenderebbero per Murici al momento, per cui sono voci poco attendibili, poco reali. Credo che Murici comunque abbia espresso più volte il desiderio di restare la Lazio, almeno quest'anno, poi la prossima estate la Lazio si guarderà intorno, anche il giocatore si guarderà intorno. Però io devo dire che quest'anno Murici, quando ha giocato, non ha fatto male. Sì, magari non ha segnato, però ricordiamo tutti che ha procurato un rigore decisivo e quando è entrato ha fatto il suo. Certo, ripeto, contro l'Inter non è la partita ideale, perché va a giocare contro difensori che hanno le stesse caratteristiche del Kosovaro. Per questo io opterei, ovviamente, se è disponibile Ciro Immobile. Ma le notizie che sono arrivate stamattina sono sicuramente positive, per cui io mi sbilancierei e proverei a far partire il titolare Ciro Immobile contro l'Inter. Grazie a tutti.